a tutti e vediamo, vediamo in questo video, vediamo in questo video meditazione per attirare la benedizione degli angeli. Prima però volevo ricordarti di mettere un like, ovviamente se il video ti piace, condividere con i tuoi amici, iscriviti al canale gratuitamente attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, se vuoi ovviamente puoi fare una donazione al canale, basta che vai sotto il video e clicchi sull'apposito tastino e sarà ben accetta. Ti ricordi inoltre che sul canale è possibile abbonarsi, abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, vicino a tastini iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. E veniamo al tema meditazione per attrarre la benedizione degli angeli. Allora, intanto chiariamo alcune cose. Chi sono gli angeli? Gli angeli non sono quelli biblici, gli malahim biblici erano delle persone fisiche, secondo le scritture antiche, quindi non c'entra, ma gli angeli sono delle entità, perché noi viviamo in un ecosistema in cui gli esseri umani, diciamo, hanno una parte sottile, energetica, ma hanno anche una parte grossolana. Esistono delle entità che non hanno questo fardello, tra virgolette, del corpo grossolano. E noi esseri umani entriamo in contatto, siamo delle forme ponte, ponte da pontefice, ad esempio, che è il collegamento con questo mondo grossolano, il mondo energetico, e quindi possiamo comunicare. Ovviamente queste entità hanno, per dire, ad esempio, molte più informazioni di noi, perché il tempo lo percepiscono in modo diverso, quindi possono avere delle prospettive sui eventi futuri. Hanno, insomma, sono normalmente entità più evolute. Non tutte sono evolute, ci sono anche delle entità meno evolute, delle larve, ad esempio. E poi non tutte sono buone, tra virgolette, per gli esseri umani, perché a me spiace parlare di buono o cattivo, ma sempre dipende dall'ottica in cui ci si mette, no? Però, diciamo così, che ci sono delle entità che sono fuori controllo, sono, come dire, non sono collegate al benessere spirituale e all'evoluzione spirituale dell'essere umano, anzi vogliono succhiarci energie, sono delle entità come, ad esempio, le larve, i gusci vuoti, ma anche alcune entità demoniache, non tutti per la verità. Però, poi ci sono delle entità che invece sono l'entità angelica, appunto, le entità che sono favorevoli allo sviluppo dell'essere umano, si chiamano entità angeliche, si chiamano angeli, e quindi noi possiamo, dovremmo entrare in contatto con questi angeli, ti voglio fare una meditazione, appunto, per entrare in contatto con gli angeli, e per attraere le benedizioni. Cosa sono le benedizioni degli angeli? Sono, diciamo, dei pensieri positivi degli angeli verso di noi, in modo tale da eliminare le interferenze, perché a livello energetico, a livello sottile, ci possono essere interferenze, ad esempio, maledizioni, persone che ci mandano malocchi, negatività, e la benedizione, diciamo, elimina tutte queste interferenze. Gli angeli hanno, vibrano un'energia molto sottile, molto potente, per cui hanno questa priorità. Per cui noi possiamo invocare gli angeli per attrarre le benedizioni ed eliminare le maledizioni, il malocchio, energie negative, interferenze. Gli angeli, se glielo chiediamo, lo fanno. Dobbiamo però entrare in questo stato meditativo e fare questo passo. Allora, quindi, quello che ti chiedo è entrare, metterti in una posizione comoda, con la schiena eretta, ma non tesa, e semplicemente ascoltare il suono della mia voce. E mentre ti metti in una posizione comoda, con la schiena eretta, ma non tesa, e ascolti il suono della mia voce, non so se ti rendi conto che portando l'attenzione sul tuo respiro, e il tuo respiro diventa calmo e regolare. Come calmo e regolare? È il respiro del mondo. Come calmo e regolare? È il respiro dell'universo. È il via via che continui a respirare tranquillamente. E ti rilassi sempre di più. Puoi entrare in uno stato di coscienza sempre più profondo. Ascoltare il suono della mia voce, e il tuo respiro diventa calmo e regolare. Come calmo e regolare? 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 Tu stranmo e regolare. Mary and Mario E via via che tutto questo accadde è via via che tutto questo succeda. Ti chiedo di immaginare davanti a te il tuo Angelo di riferimento che è il tuo Angelo di Incremento e il tuo Store. visualizza davanti a te una figura di luce di energia sarà direttamente il tuo angelo stesso che ti darà inconsciamente telepaticamente l'indicazione che tu immaginerai non devi fare alcuno sforzo ti darà spontaneo immaginare questa figura di luce immaginerai il suo vivo immaginerai il suo posto immaginerai il suo sorriso guardalo davanti a te e l'angelo ti guarda come da me la mia e anche gli angeli sono poi risposti alla nostra che è nascita spirituale il tuo angelo è poi risposto il tuo che è nascita spirituale e metto con te ascoltare i suoni e non ci rispondono tu sai che il tuo angelo è perfetto il tuo angelo e tu vuoi entrare il tuo angelo e tu vuoi entrare il tuo angelo che andrai a dimostrare tutte le domande che in qualche modo che in qualche modo possono creare il tuo angelo e continui ad ascoltare il suo ruolo e il tuo angelo e ascolto e osservo l'angelo che ti invia io ti benedico ed è l'unico ogni traccia di negatività che può intervenire nella tua vita io ti benedico ed è l'unico con la mia potenza ogni traccia di negatività che può intervenire nella tua vita entra in comunione con la figura del mondo entra sempre in più in comunione con la figura del mondo e io ti benedico ed è l'unico traccia di negatività che può intervenire nella tua vita entra in contatto con la figura del mondo senti qui ed ora e avrai in questo momento preciso la sensazione una sensazione particolare ascolta il tuo corpo e ricerca questa sensazione particolare perché è questa sensazione che va a certificare il motivo di accademia che religione ti ha inviato la tua vita va a certificare il motivo di accademia che religione non ti ha reggito positivamente con te e ti ha inviato con il motivo di accademia e continuo ad ascoltare il suono delle mie voci e le spingere entrando in comunione con il mondo con questa figura del mondo energia dell'energia energia dell'energia energia positiva dell'energia la rinnovazione dell'energia mi sta purificando ogni negatività mi sta introducendo nel tuo corpo energetico energie positive nuova vitalità nuove energie positive e continuo ad ascoltare e continuo ad ascoltare il suono delle mie voci e le spingere vento con te ad ascoltare il suono delle mie voci e le spingere vento con te con il mio agente ricevi la benedizione del mondo ricevi la benedizione del mondo e questa sensazione particolare che ti garantisce che questa benedizione è efficace di stargire da un altro tempo di stargire da un altro tempo e adesso che tutto questo è accaduto e è la certezza di aver ricevuto la benedizione del mondo porta nuovamente l'attenzione sul tuo respiro sull'aria che entra e che esce dentro il tuo mondo torna al codoro il tempo presente e ringrazia l'angelo esprimi gratitudine all'angelo esprimi gratitudine all'angelo e saluta e potrei vedere che l'angelo sul sogno di questo forno di un giorno è sempre vicino sempre vicino e esprimi gratitudine e ringrazio oggi e adesso mentre continuo a portare l'attenzione sul tuo respiro fai tre respiri profondi e alterni questi tre respiri profondi inizia a muovere le braccia le mani le gambe e per finire apri dolcemente gli occhi sentendoti bene tranquillo tranquilla rilassato rilassata bene bene e quindi iscriviti al canale metti un like se questo video ti piace condividilo con i tuoi amici iscriviti al canale attiva la campanella così riceverai la notifica del mio video seguimi ovviamente su tutti i miei canali youtube ti ricordo che sotto il canale puoi fare una donazione e dando che si riceve quindi fai una donazione anche piccola anche di un caffè ma fai una donazione e ti ricordo inoltre di Cera San Francesca dando che si riceve che puoi abbonare al tuo canale abbonarsi è facile basta andare nella home page tastina abbonati cucina tastina iscriviti selezioni l'abbonamento che preferisci seguimi anche sugli altri miei social tiktok instagram sempre massimo trama speciale massimo trama speciale bene bene e per questo video è tutto quindi ti do